Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel saggio pubblicato appena da qualche giorno da Carocci dal titolo La Saga di Nitida, un racconto cavalleresco islandese a cura di Michael Michi che abbiamo un grande piacere di avere nostro ospite che ci parlerà di questa interessante saga islandese e io come mia abitudine le lascio subito la parola. Prego professore, a lei. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, sono molto contento di essere qui a parlare di questa saga anche perché è una saga a me molto cara, in realtà molto cara, credo che sia importante anche per tutto lo scenario insomma degli studi mediali in Italia, non perché l'ho fatta io ma perché effettivamente si tratta della prima saga cavalleresca che noi islandese, che noi abbiamo a disposizione per il pubblico italiano. Le saghe cavalleresche islandesi sono un genere in tardo medievale quindi che si sviluppa a partire circa dal XIV secolo e che però in Islanda da subito tiene un enorme successo e questo ci viene dimostrato dall'enorme quantità di manoscritti che contengono saghe cavalleresche e ad esempio la stessa nitida saga è contenuta in più di 65 manoscritti tra il tardo medioevo e i primi del novecento. È importante anche questo dato non solo perché ci parla della popolarità che queste saghe ottengono nell'Islanda tardo medievale e nella prima età moderna, fino addirittura al XX secolo, ma perché ci dice anche qual è stata un po' la ricezione di questi testi. Se sono stati copiati la nitida e tante altre saghe cavalleresche fino a tempi così recenti è perché l'intenzione di metterli a stampa è arrivata molto tardi e così come tardi è arrivata anche la rivalutazione critica insomma di questi testi che sono sempre stati un po' dalla riforma protestante in poi un po' bistrattati e ritenuti di serie B, insomma di scarso valore letterario. Eppure si tratta della stessa tipologia di narrazioni che nel resto dell'Europa nello stesso periodo, ma anche poco prima, spopolavano e che noi tuttora studiamo perché i romanzi cavallereschi francesi sono diventati un po' anche, a mio vedere, la matrice di tanto fantasy che ora consumiamo a livello proprio di cultura pop. Mentre quello per quanto riguarda l'Islanda un certo tipo di atteggiamento conservatore nei confronti dei testi più legati alla tradizione puramente germanica, quindi le edde poetica, prosa che contengono appunto nozioni di mitologia e religione norrena, ma anche le saghe degli islandesi, quelle quindi quelle più ambientate in Islanda nei primi anni della colonizzazione, sono state ritenute culturalmente più rilevanti. Da niente la saga finalmente arriva anche in italiano, finora c'è stata solo una traduzione in inglese di qualche anno fa, ma non solo fra le prime in italiano, ma fra le poche in generale, perché anche nonostante in lingua anglofona e anche in spagna, in lingua spagnola e tedesca siano state fatte delle traduzioni e delle analisi critiche, c'è ancora moltissimo da fare, ci sono ancora moltissime saghe cavalleresche, islandesi, che sono state finora soltanto trascritte dal manoscritto in via diplomatica, senza una vera propria edizione critica, proprio per questo tipo di atteggiamento un po' di rifiuto della critica. La nitida saga in particolare mi interrompa quando vuole, ovviamente, io vado, ma lei mi interrompa tranquillamente. La nitida saga in particolare ho ritenuto che fosse importante per diversi fattori. Innanzitutto è una saga cavalleresca unica nel suo genere. Per saga cavalleresche islandese va detto non si intendono saghe ambientate in Islanda, perché in Islanda non c'era una cassa di cavalieri, non esisteva una tale istituzione e si tratta di testi scritti in Islanda, originali, quindi senza riprendere i personaggi cicli cavallereschi continentali o delle isole britanniche come il ciclo Arturiano, ad esempio, ma con personaggi nuovi, scenari nuovi, elementi nuovi, anche se ovviamente stilisticamente, a livello anche di motivi letterari, molti aspetti si ripetono perché c'è un'ispirazione continentale, ma per storie nuove. La nitida saga in questo si distingue perché è un doppio unicum, come ho definito all'interno del libro, perché da un lato è una saga cavalleresca particolare, essendo la storia di una fanciulla re. Io ho tradotto con questo termine il termine meikongr islandese, che vuol dire appunto re fanciulla, fanciulla re, ovvero una figura femminile che ritorna in alcune di queste saghe cavalleresche, non in tutte, quindi c'è un filone diciamo a sé stante, di saghe cavalleresche islandesi in cui si ritrovano delle figure simili alla Brunilde della saga dei Volsunghi, dove appunto queste regine dispotiche, un po' sadiche, rifiutano a tutti i costi il corteggiamento delle controparti maschili e dei cavalieri, per, addirittura con soluzioni a volte anche molto umilianti, e per poi dopo lo svolgimento della narrazione, essere costretti attraverso qualche stratagemma o con la forza a sposarsi e a sottomettersi, diciamo, all'autorità maschile. In questo caso non solo la nitida saga è una saga cavalleresca delle fanciulle re, perché nitida è una fanciulla re secondo tutti i crismi del sottogenere, del filone, ma è una fanciulla re che, al contrario di tutte le altre, alla fine del racconto decide di non sottomettersi all'autorità maschile, non viene mai, diciamo, non viene mai né fregata, tra virgolette, attraverso stratagemmi magici o travestimenti o indovinelli, eccetera, e non viene mai nemmeno forzata all'interno di una unione matrimoniale non desiderata. Rimane sempre una figura per tutta la durata del racconto, che poi all'apparenza è una bella avventura, comunque fantastica, anche godibile per un pubblico non strettamente specialistico, però per tutta la durata del racconto nitida rimane una figura positiva, sempre, non ha le punte di sadismo di altre sue controparti nel filone e soprattutto sceglie sempre cosa fare del proprio destino, chi diventare, con chi condividere non solo il proprio talamo, ma anche la propria conoscenza, perché nitida, come tante altre regine di questo genere di saghe, ha una capacità divinatoria, riesce a capire le proprietà soprannaturali di certi oggetti, a usarli per il proprio vantaggio, ha delle visioni, diciamo, che l'aiutano a sfuggire ai nemici, ad esempio lei utilizza queste pietre per vedere il mondo dall'alto come se fosse una mappa e vedere ogni movimento di ogni persona che lei desidera vedere, quindi lei riesce in questo modo anche a sfuggire ai nemici e utilizza sempre queste pietre, ad esempio, per rendersi invisibile, teletrasportarsi tra molte virgolette di nuovo, però da un posto all'altro, materializzarsi, diciamo, da un posto a un altro, o anche interpretare i segni del cielo, insomma, da un punto di vista astrologico, astronomico, che ovviamente sono due elementi che nel Medioevo non avevano particolare distinzione, però lei ha tutte queste capacità divinatorie che decide di condividere con chi lei ritiene alla sua altezza, chi lei ritiene degno. Viene presentata all'inizio della saga con dei tratti di bellezza pura e immacolata quasi mariani, proprio anche senza quasi, perché ci sono dei motivi che riguardano il suo aspetto, i colori del suo volto, dei suoi capelli, eccetera, la lunghezza dei suoi capelli che le coprono tutto il corpo, che in realtà si ritrovano in descrizioni non solo della Vergine, ma anche ad esempio di Sant'Agnese, questi lunghi capelli che le coprono tutto il corpo, nella saga di Sant'Agnese che esiste in Islanda, si ritrova una caratteristica identica. Quindi le vengono attribuiti tratti quasi di santità, nonostante lei ovviamente non sia una santa, questo assolutamente no, però è sicuramente un esempio di sovrano illuminato, un esempio di sovrano illuminato dotato di sapere universale, di capacità appunto superiore alla media, un'intelligenza, come si dice anche nella sua introduzione, che riesce a mettere in scacco anche gli studiosi più capaci e più colti e riesce con la sua voce, tanto è suave ad addormentare tutte le creature del mondo, se vuole, e quindi siamo di fronte a una fanciulla re che rispetto a tutte le altre fanciulle re del genere è un ulteriore, già i racconti delle fanciulle re sono un filone particolare nelle saghe cavallersche islandesi. Lei è ulteriormente un unicum perché è questa regina che è un modello positivo, sempre positivo di buon senso, di misura, di determinazione, tutta il femminile, che è una cosa che noi troviamo nella saga di Nitida e che io sappia in questo modo, così sistematico, così quasi programmatico, oserei dire e lo spiego anche nella mia introduzione, non si trova altrove e quindi ho ritenuto che fosse un testo interessantissimo da proporre al pubblico italiano, senz'altro. È bello, è sicuramente. Io ho una curiosità, ma sappiamo chi è l'autore? Ah no, no, purtroppo gli autori, gli autori in particolare in Islanda sono sempre anonimi, ma in generale nel periodo mediale, come sa bene, è difficile avere un nome, però non ci sono neanche varie ipotesi, devo dire, perché è una saga che è stata talmente copiata e diffusa, la trasmissione manoscritta di questo testo è talmente complessa. Ci sono fino a sei, sette famiglie di manoscritti diversi con varianti particolari, trasmessi in zone molto diverse anche dall'Islanda, alcune di queste famiglie probabilmente sono delle riscritture, praticamente cerco di spiegarmi, la saga è stata molto probabilmente nell'est dell'Islanda a un certo punto trascritta in rima, in rimur, che sono appunto delle ballate in rima popolari, anche molto molto popolari, perché era anche la struttura di queste rime aiutava anche la memorizzazione e quindi la trasmissione orale da una persona all'altra di queste avventure così particolari e di successo, per cui la saga probabilmente è stata trascritta in rimur, dopodiché da queste rimur è stata riscritta una versione in prosa, ma c'è almeno un filtro nel mezzo, poi questa versione in prosa trascritta dalle rimur probabilmente è stata ricopiata poi nel tempo con variazioni ulteriori. Gli islandesi si prendevano moltissime libertà anche nei momenti in cui traducevano da, non solo quando copiavano, ma anche nel momento in cui traducevano da testi stranieri. Gli islandesi si prendevano moltissime libertà, la situazione dei manoscritti in Islanda, insomma della tradizione manoscritta in Islanda ha sempre mostrato segni di appunto di grande libertà creativa e questo è un dato altrettanto affascinante secondo me in uno scenario come quello islandese che normalmente quando non parlo con degli specialisti viene molto sottovalutato dal punto di vista della produzione culturale letteraria medievale. La gente non si aspetta normalmente quando chiacchiero con dei non specialisti che l'Islanda abbia prodotto così tanto, tradotto così tanto e si sia presa così tanta libertà in termini appunto di adattamento in modo originale di modelli rispetto a un periodo come il Medioevo dove appunto la gente non si immagina spesso che ci fosse la circolazione di testi di cultura materiale e immateriale che invece c'è stata soprattutto nel tardo Medioevo. Devo dire che il mondo cristiano, cattolico, insomma di influenza cristiana cattolica era estremamente connesso, Islanda compresa, quindi molto più di quanto si potrebbe pensare e quindi noi abbiamo abbiamo una produzione massiccia di manoscritti e in questo caso al punto tale da perdere un po' le radici di dove questo testo possa effettivamente essere stato scritto la primissima volta, però è anche affascinante, se non fosse così noi filologi non avremmo nulla da fare se non avessimo queste indagini da portare avanti, saremmo senza lavoro. È la trama di un film questo comunque, è un film di grande attualità anche perché è singolare il ruolo femminile in questa saga. È estremamente interessante, singolare nel genere, per il periodo storico, ci sono vari elementi che rendono Nintida una figura estremamente affascinante, che come affascina tutti quelli che la incontrano e persino gli animali e le piante, come dice la saga, ha affascinato anche me, devo ammetterlo, sono rimasto stregato dal potere di questa regina così, devo dire, sia angelica nei tratti estetici ma anche estremamente determinata e volitiva, quindi è una figura femminile forte ma non condannata per questa sua forza, ecco anzi lodata per questa sua forza d'animo. Devo dirle che in questa edizione critica della saga con traduzione che ho preparato ho inserito due versioni del testo, la prima tratta dai due dei manoscritti diciamo più antichi, meglio conservati e più leggibili e meno frammentari, la seconda invece è molto più recente, si tratta di una versione della saga più lunga del 1700, 1699 diciamo. Ecco in questo caso c'è un nome, abbiamo il nome dell'autore, dell'autore, del copista, ecco non possiamo attribuire in nessun in nessun modo ovviamente la 1679, chiedo scusa, mi corrego. Sappiamo che ha copiato la saga ma ovviamente non possiamo attribuirgli la paternità del testo perché ovviamente siamo molto molto dopo la prima versione, però è interessante notare le differenze fra questi due testi e gli interventi che o questo copista direttamente o qualcuno prima di lui ha deciso di fare sul testo, gli ampliamenti, le modifiche, diciamo che la stessa storia parla di due Islande diverse, nonostante non sia ambientata in Islanda, però il modo con cui si narra, con cui ci si rivolge al pubblico, con cui si analizzano i personaggi e li diciamo li si criticano, giudicano, commentano eccetera. Il modo in cui si affrontano certe tematiche ci parla di due Islande diverse, quindi questa seconda versione della saga l'ho inserita per questi motivi, cioè per la differenza che c'è con la prima, che sono piccole differenze ma che ci parlano di due Islande già molto diverse, cambiate nel corso dei secoli e quindi c'è un valore culturale di questa comparazione fra le due versioni, ma un altro motivo è appunto il fatto che abbiamo il nome del copista, quindi abbiamo una localizzazione più precisa, storico-geografica e appunto cronologica, ma anche perché, sembra strano, ma questa versione del 1679 è la prima, chiedo scusa, questo manoscritto del 1679 è il primo a contenere una versione integrale da cima a fondo della saga, ed è strano perché è una saga così popolare, così famosa, che già si ritrova in un frammento, il primissimo frammento manoscritto che riguarda la saga è del quattordicesimo secolo, quindi molto molto indietro, ed è a mio avviso strano che effettivamente l'unica versione integrale, la prima versione integrale, non l'unica, sia così tarda, cioè del 1679, però per questi motivi ho deciso di inserire anche questa seconda redazione, così che il lettore possa spulciarsela e notare tutti i cambiamenti che nei secoli sono stati apportati, ed è evidente che alcuni di questi cambiamenti siano stati apportati tardi, cioè, allora mi spiego meglio, la versione più breve della saga, quindi la prima che trovate nell'edizione, è più antica, due manoscritti più antichi, ma non solo più antichi, di una famiglia a sé stante, la famiglia B, quindi per famiglia di manoscritti si intende alcuni manoscritti che condividono caratteristiche simili, in particolare che condividono la stessa struttura narrativa o gli stessi errori, perché noi filologi lavoriamo sugli errori dei copisti, perché ovviamente quello che rimane uguale non ci dà un metro di, un criterio per, di raggruppamento di questi testi. La seconda versione più lunga e più recente si rifà a famiglia A, quindi un'altra famiglia di manoscritti, che si suppone sia comunque molto vicina all'originale. Il problema è che è evidente che ci siano stati, anche per fattori linguistici, è evidente che ci siano stati delle modifiche e degli ampliamenti in tempi molto recenti. Come dire, la saga, i manoscritti della famiglia A, è molto probabile che avessero una struttura, contenessero una saga in una versione più breve, molto più aderente a quelli della famiglia B, si assomigliavano di più, diciamo, all'inizio della trasmissione manoscritta. Poi quelli della famiglia A, a un certo punto, hanno subito degli ampliamenti e delle trasformazioni rilevanti e che, per fattori linguistici, ci indicano almeno il 1600, ecco. Quindi a un certo punto, nel corso dei secoli, qualcuno ha aggiunto, ha cambiato, ha ampliato, chi? Non lo sappiamo. Forse è lo stesso copista che si, diciamo, rivela nel manoscritto che io prendo in considerazione, ma forse qualcuno anche prima di lui, da cui lui ha copiato. È veramente complicato, è un'indagine. Come dice sempre il mio maestro, il lavoro del filologo è un lavoro da investigatore, insomma, le somiglianze fra l'investigatore e il filologo sono impressionanti, tant'è che noi chiamiamo i manoscritti testimoni. Testimone 1, 2, 3, A, B, CD e grazie a questi testimoni noi possiamo interrogare i testi per cercare di capire da dove vengono, per chi sono stati iscritti, da chi è veramente affascinante. Però nel caso della Nitida è molto difficile fare questo lavoro. Beh, davvero è tutto molto molto interessante, quindi bisogna assolutamente correre in libreria e acquistare la saga di Nitida. Un racconto... Ma guarda, sì, chiedo scusa. No, dicevo, sarebbe bello e anch'io invito perché è una saga che è godibile anche semplicemente come racconto. C'è il testo islandese a fronte, ma ovviamente uno può anche solo dedicarsi alla traduzione, leggersi una bella storia e comunque fare un viaggio in un mondo molto lontano da noi comunque. Sì, quindi dicevamo che hai stato appena pubblicato da Carocci, fra l'altro sul sito dell'editore potete acquistarlo col 5% di sconto, quindi un motivo in più per correre in libreria oppure acquistarlo online e farlo proprio. Io intanto ringrazio tantissimo Michael Michi per essere stato nostro gradito ospite, ricordo a voi di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le nostre video presentazioni e quindi grazie ancora e a presto. È stato un grande piacere, grazie. Grazie a tutti.